Aguzzi, lei è uno dei 13 firmatari di questa famosa lettera che ha fatto così tanto inalberare, diciamo così, il prefetto di Pesaro Urbino. Insomma, cosa c'era in questa lettera? La gestione dei migranti è una cosa particolarmente difficile, delicata e anche molto complessa nel territorio. Faccio questo esempio per dar l'idea un po' di cosa stiamo parlando. Comune di Cogli al Metauro, dove io sono sindaco, 12.500 abitanti, ha circa 35 immigrati oggi ospitati in alcune strutture. Per un costo complessivo, per la collettività, di 510.000 euro l'anno solo per Cogli al Metauro. Quindi parliamo di una qualcosa di enorme rispetto alle normali attività che si svolgono nei comuni. Di tutto questo i sindaci, non dico io, i sindaci in generale non sono per nulla coinvolti. Infatti io prima ho detto circa 35, perché non sappiamo neanche di preciso quanti ne siano ospitati. Questo attraverso strutture private e cooperative. Non sappiamo che attività svolgano sul territorio, che tipo di vita conducono sul territorio. Non siamo informati di nulla. Per questo, insieme ad altri 12 sindaci, ho e abbiamo firmato una lettera che chiedeva di fatto al Viminale, nel Ministero dell'Interno, era diretta al sottosegretario questa lettera, chiedevamo quali sindaci, ma mica noi in particolare, i sindaci d'Italia, di essere maggiormente coinvolti in queste situazioni, anche perché la gente è poi un po' preoccupata, si rivolge a noi, e noi non sappiamo a volte cosa rispondere. Quindi abbiamo chiesto di essere maggiormente informati, tenuti in considerazione, anche per poter magari gestirla questa cosa, per cercare di incoraggiare anche l'inserimento sociale di queste persone, per cercare di garantire maggiormente la sicurezza e il decoro anche sul territorio. Ecco, tutto questo è la lettera che noi abbiamo fatto. Non l'abbiamo per nulla citato il prefetto, non l'abbiamo per nulla citato la e le prefetture, con grande stupore e meraviglia. Stamattina vedo che il prefetto della provincia di Peso Urbino si ritiene leso da questa lettera, forse si ritiene, non so, scavalcato, non riesco a interpretarla bene, e addirittura dice che potrebbe denunciare alla Procura della Repubblica questi 13 sindaci. Denunciare intanto non ho capito per cosa, quale reato e dove è il reato. Non l'abbiamo neanche citato il prefetto. Poi ritengo particolarmente grave che un prefetto, rappresentante del governo in questa provincia, apre una diatriba con i sindaci che sono i rappresentanti dei cittadini, cioè dovrebbe tutelare i sindaci sul territorio, non accusarli di qualcosa. Io spero che sia una svista giornalistica e che domani il prefetto reintervenga precisando e magari scusandosi con i sindaci di questa cosa. Non la toglie però il fatto che io comunque domani tramite canali che ho infermerò direttamente il Viminale e il ministro Minniti di questa situazione che ritengo particolarmente grave, soprattutto se non viene smentita.